Dove erano rimasti? All'America. C'è bisogno che glielo dico al dottore. A me l'America non fa niente bene. Sì, sì. Non lo so, mi fa venire voglia di cose estreme. Pensando all'America, alla sua libertà, mi fa voglia di un dittatore. Sì, di un dittatore. Sì, sì, di un dittatore. Almeno si riconosce. Si vede. Perché io non ho mai visto una cosa che sgretola l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno la martia ti mangia così bene da lì dentro. Come sono geniali gli americani. Te la metto noi. La libertà è alla portata di tutti. Come la chitarra. Ognuno suono come vuole e tutti suonano come vuole la libertà. Wish all over come. Ognuno suono come vuole e tutti suonano come vuole. Eu ne ho ho. Ognuno suono come vuole.